E siamo allo sport, un pacchetto tutto compreso per godersi tutte le partite del Volley Trentino, con agevolazioni anche per l'abbonamento alla stagione. Rosa è la novità della campagna abbonamenti della Trentino Volley per la prossima stagione. Laura Galassi. Ci sono i volti dei fratelli Michieletto, Alessandro e Francesca sulla nuova campagna abbonamenti della Trentino Volley. Campagna che quest'anno infatti è doppia, maschile e femminile. Una combo unica a livello nazionale che vuole incentivare i tifosi a sostenere entrambe le squadre. Accomunate anche dall'obiettivo sportivo, giocare un campionato di vertice. Chi quindi acquista l'abbonamento per applaudire il sestetto di Lorenzetti entrerà a Metaprezza a San Bappolis. L'approccio societario è quello di una famiglia allargata. Siamo la generentola del gruppo, però tutto l'ambiente della Trentino Volley ha messo a disposizione il suo know-how per farci crescere. Se sui biglietti non ci sono stati rincari, c'è però un'altra novità per chi vuole godersi il trio Kazischi-Michieletto-La Via Dal Vivo. L'abbonamento full che copre tutte le partite della stagione, compresi play-off Scudetto, quarte di Coppa Italia e Champions League, nella speranza che si riesca a mantenere la capienza completa al palazzetto. Siamo confrontati con tutti i nostri competitor di tutta Italia, con i nostri colleghi. Anche tutto il mondo del calcio e del basket sta vendendo o venderà abbonamenti, come se la stagione dovesse essere al 100%.